Buongiorno fratelli, Dio vi benedica grandemente. Buongiorno, Dio vi benedica fratellini, gloria a Dio. Eccoci un altro piccolo incoraggiamento da parte del Signore che c'è qui a passare un po' di tempo con Gesù e con voi. Allora stamattina abbiamo una lettera da parte di Dio. Una lettera per chi? È in inglese, guarda, devo tradurla. Dice lettera da Dio, buongiorno, e poi c'è il messaggio. E suppongo che sia per chiunque possa riguardare. Ovunque la scarpa calza. E cosa dice Dio? E credo che calza parecchio di noi. Good morning, buongiorno. Lettera da parte di Dio. Stamattina quando tu ti sei svegliato e ti sei alzato, io ti guardavo, speravo che mi parlasse solo con le parole, solo ringraziarmi per qualcosa di buono che è avvenuto nella tua vita ieri o la settimana scorsa sarebbe stato sufficiente. Ma ho notato che eri così occupato a selezionare il vestiario giusto per il lavoro. L'ho aspettato che potessi ascoltare e sentire qualcosa da parte tua. Poi ti sei messo a correre per la casa raccogliendo carte e cose varie e ho capito che sarebbe passato un po' di tempo prima che ti potessi fermare a dire buongiorno. Però non hai mai rallentato. Quello che volevo dirti è che avrei potuto aiutarti a fare le cose in un modo migliore, molto più facilmente, molto più di quanto tu potevi sognarti. Se solo potevi spendere un po' di tempo, se ogni giorno potessi spendere un po' di tempo, anche poco, con me. A un certo punto ti sei messo a seduto per 15 minuti, seduto su una sedia senza fare niente. Ho aspettato, cercando di udire qualcosa da parte tua. Poi ho visto che si è saltato su in piedi e ho pensato che volevi parlare con me. Ma tu sei scappato, sei corso al telefono e ti sei messo a chiamare un amico. Ho guardato mentre te ne sei andato a lavorare. Ho aspettato pazientemente tutto il giorno per udire qualcosa da te. Con tutte le tue attività eri troppo occupato per parlare con me. Ho notato a l'ora di pranzo che ti guardavi intorno. Forse eri un po' imbarazzato a parlarmi. Guardavi intorno ai tavoli, intorno a te, e hai notato che c'erano dei tuoi amici che mi stavano parlando prima di mangiare. Però tu no. C'era ancora un poco di tempo e speravo che lo usassi per parlarmi. Così sei andato a casa, avevi molte cose da fare. E dopo che facessi tutte le tue cose, hai acceso la televisione. Ed ecco che per molte ore ti sei messo a guardare. Ho aspettato. Ma tu solo continuavi a guardare la televisione. Hai mangiato. Ma ecco di nuovo, non mi hai parlato. E così, dopo la cena, sei andato a letto molto stanco. E dopo che tu dicesti buonanotte alla tua famiglia, ecco, sei andato a dormire. E questo fu tutto. Avevo così tanto nel mio cuore da condividere con te. Volevo così tanto essere parte della tua giornata. Sai, noi potremmo avere dei momenti così felici insieme, se comunichiamo cuore a cuore. Ti amo così tanto e aspetta ogni giorno per un tuo pensiero, una piccola preghiera, un ringraziamento, la più piccola conversazione. Bene, speriamo domani. Attenderò. Sono il tuo amico, Dio. Amen. Grazie, Signore. Bellissimo messaggio. Dio ci aiuti a non deluderlo. Una lettera molto bella che ho trovato, una storia. E credo che sia vera, reale. Penso che sia un'altra del Signore. Certo, si poteva scrivere e io la potevo tradurre mille volte meglio. Ma il punto è il concetto. Il concetto è il Signore si sente solo. Perché noi siamo così tanto che è entrato nel nostro cuore. E cosa fa nel nostro cuore? Potevano restarsi nel cielo. Non deve venire qui, in questo cuore disgraziato mio, per chi lo ignorasse. Se io lo devo ignorare, quando dico io, dico anche voi. Se lo devo ignorare, tanto vale che non veniva. È come se io ignoro mia moglie. E viene oggi e dice, oh, ti benedica Giuseppe. Io non gli rispondo. Perché? Perché non sono sintonizzato. Qui vado alla televisione. E che grazie matrimoni è questo? Il fatto che la nostra relazione con Gesù è come un matrimonio. Lui non entra nel nostro cuore per essere ignorato. La moglie non mi ha sposato per essere ignorata. Le deve sentire se l'amo ancora. E in parole. Scandito in parole. Non solo basta un'occhiata. No, no. Andare a abbracciarla. Devi sussurrargli. Da parte mia, devi chiedergli scusa. Ogni giorno c'è qualcosa che potrei fare meglio. Dio non deve chiederci scusa, ma noi a lui sì. Va bene? Insomma, il punto di questo piccolo messaggio è molto profondo. È che la sua chiesa, cominciare con me, non abbiamo abbastanza relazione. e ci sono purtroppo taluni che ne hanno così poca che parlano a Dio una volta all'anno, una volta alla settimana. C'è altre religioni che vanno in chiesa un giorno alla settimana, chissà durante il giorno, nei sei giorni, se pensano al Signore. Ma se ci pensassero, la Signora andrebbe a evangelizzare. Sarebbero una moglie e un marito un pochettino meglio, come anche io devo essere. E allora questa storia dell'orario settimanale per andare a vedere Dio è un disastro. Cambiamo, fratelli, mettiamoci in occhio e rinnoviamo i nostri voti, le nostre promesse a Dio che vogliamo camminare sul sentiero dalla sua sposa. Così che un giorno, chissà, possa presceglierci. Però dipende da noi. E' un fitti fitti. Dio ci deve prescegliere, ma noi dobbiamo farci prescegliere. Sì, io posso chiedere alla mia fidanzata se vuole sposarmi, ma lei deve anche predisporsi in modo che io possa sentirmi ispirato a chiedervi. Preghiamo per i fratelli. Signore, e ti chiedo di benedire tutti i fratelli. Signore, incoraggiali oggi. Sì con loro, Signore Gesù. Anche quei fratelli che magari oggi si sono dimenticati di Te, Signore, sii vicino a loro, Signore, che ti possano parlare. Signore, aiutaci tutti a svegliarci, non dimenticarsi di Te, non venire a Te come una preghiera ripetitiva, cantilena, tipo induismo, che ripetono la preghiera all'idolo finché il cervello è lavato. e se non così c'è un sorriso stereotipato. Signore, vogliamo parlare con Te. Fratelli, il Signore vi benedica con una relazione vera con la Signora, una relazione vera, da amico. Non solo a un Dio, lui e Dio, noi siamo schiavi, no? Io vi chiamo amici, ha detto Gesù, Giovanni XV. Il Signore vi benedica, vi guarisca, vi prosperi, vi protegga nel nome di Gesù Cristo. Dio vi benedica. Amen.